allora oggi vediamo un approfondimento della divisione tra polinomi in particolare vediamo il caso in cui i polinomi da dividere abbiano coefficienti letterali perché nell'altra lezione abbiamo visto che i coefficienti dei polinomi erano puramente numerici ad esempio se dobbiamo fare questa divisione 5 a alla seconda b più a alla terza meno 2 a b alla seconda più b alla terza e lo dobbiamo dividere per a alla seconda meno 4 a b più b alla seconda allora dobbiamo in genere nella traccia viene scritto rispetto rispetto alla lettera o a o b in questo caso perché sono le uniche due che sono presenti nei polinomi supponiamo che vogliamo fare la divisione rispetto alla lettera a che significa fare la divisione rispetto alla lettera a significa che dobbiamo ordinare i due polinomi innanzitutto rispetto alla lettera a quindi ce li dobbiamo riscrivere in questo modo quindi nel dividendo il polinomio è ordinato secondo la lettera a in questo modo a alla terza più 5 a alla seconda b meno 2 a b alla seconda più b alla terza il secondo polinomio è già ordinato rispetto alla lettera a e quindi rimane meno 4 alla seconda meno 4 a b più b alla seconda a questo punto eseguiamo la procedura che abbiamo visto come con i polinomi a coefficienti puramente numerici che cosa significa che ora i coefficienti sono letterali significa che il polinomio dividendo è ordinato secondo la lettera a quindi è come se fosse la x di prima dei polinomi di prima ma quali sono i coefficienti dei monomi di lettera a a alla terza a come coefficiente 1 a alla seconda a come coefficiente 5b cioè la lettera b va intesa come coefficiente della lettera a 2 meno 2b alla seconda è il coefficiente della lettera a e b alla terza diventa termine nodo per cui andiamo a mettere in ordine a alla terza se ci fossero degli zeri metteremo gli eventuali zeri 5 alla seconda b meno 2 a b alla seconda più b alla terza lo vado a dividere per a alla seconda meno 4 a b più b alla seconda e abbiamo che dividendo a alla terza diviso alla seconda abbiamo a moltiplichiamo e cambiamo disegno e abbiamo meno alla terza poi viene meno 4 a b per a a viene meno 4 a alla seconda b che cambiato disegno fa più 4 a alla seconda b e lo vado a mettere in colonna con le a alla seconda perché sono loro che ci stanno guidando sulle colonne poi più a b alla seconda a per b alla seconda fa a b alla seconda che cambiato disegno fa meno a b alla seconda bene facciamo la somma il primo coefficiente sparisce qui abbiamo 9 a alla seconda b meno 3 a b alla seconda sarebbe la somma di meno 2 a b alla seconda con meno a b alla seconda più b alla terza ora vado a dividere sempre il primo coefficiente diviso il primo termine diviso il primo termine 9 a alla seconda b diviso a alla seconda fa 9 b quindi più 9 b e ora vado a prendere il 9 b e lo vado a moltiplicare per a alla seconda eccetera eccetera quindi 9 b per a alla seconda fa 9 a alla seconda b cambiato disegno fa meno 9 a alla seconda b poi 9 b per meno 4 a b fa meno 36 quindi più 36 a b alla seconda perché l'abbiamo cambiato disegno e infine 9 b per b alla seconda fa 9 b alla terza quindi meno 9 b alla terza facciamo le somme il primo va via meno 3 più 36 fa 33 a b alla seconda meno 8 b alla terza bene poiché il grado della a di quest'ultimo resto ottenuto è minore del grado del della a del divisore mi devo fermare quindi scriverò che r d scusate non r q il quoziente funzione di a perché la a era la lettera ordinatrice è semplicemente a più 9 b e il resto di a è uguale a 33 a b alla seconda meno 8 b alla terza per quanto riguarda la verifica del della divisione dovete sempre moltiplicare il quoziente per il divisore sommare al resto sommarli il resto e vedere se ottenete il polinomio dividendo bene adesso un altro approfondimento vediamo la stessa procedura con la regola di ruffini supponiamo di avere un da fare una divisione di un polinomio letterale quindi con ruffini che cosa abbiamo supponiamo di dover andare a dividere ad esempio il polinomio meno b alla terza più 4x alla seconda b meno 21 ottavi x alla terza diviso b meno tre mezzi di x perché posso farlo con ruffini ovviamente dico rispetto alla lettera b che è l'unica rispetto alla quale potrei farlo perché b nel divisore compare di primo grado quindi abbiamo che possiamo applicare la regola di ruffini proprio perché il divisore è un binomio di primo grado allora per ruffini cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere in ordine i coefficienti della b il grado più alto della b e b alla terza nel polinomio dividendo quindi è meno uno il coefficiente di b alla terza b alla seconda non c'è quindi ci metto uno zero poi b ha come coefficiente 4x alla seconda e il termine noto è meno 21 ottavi di x alla terza tiro come al solito le righe prima del primo e prima dell'ultimo termine e nell'angolino qui in basso metto il tre mezzi x che non è altro che questo cambiato disegno come facevamo nelle divisioni tra polinomi numerici bene abbassiamo il meno uno e cominciamo con la moltiplicazione meno uno per tre x fa meno tre per meno tre mezzi di x fa meno tre mezzi di x quindi sommando viene meno tre mezzi di x meno tre mezzi di x per tre mezzi di x fa meno 9 quarti di x alla seconda bene 4x alla seconda meno 9 quarti di x alla seconda fa come minimo comune multiplo è sicuramente 4 4 per 4 16 16 meno 9 fa 7 quarti di x alla seconda ora vado a moltiplicare 7 quarti di x alla seconda per tre mezzi di x e fa 21 ottavi di x alla terza e qui otteniamo zero ciò vuol dire che è divisibile cioè che questo è un quoto quindi scriverò che il quoziente q di b perché b è la lettera ordinatrice è meno l'uno è il coefficiente del quoziente del in particolare della lettera b di grado di uno inferiore rispetto a quella del dividendo cioè il dividendo aveva grado b alla terza terzo grado quindi avrà a secondo grado il quoto in questo caso chiamo quoto perché il resto è zero quindi viene meno b alla seconda quindi di grado di uno inferiore rispetto al terzo meno tre mezzi b x perché tre mezzi di x è il coefficiente di b più 7 quarti di x alla seconda e ovviamente il resto che dovrebbe essere un resto di b ma in questo caso non è più dipendente da b è semplicemente zero va bene ora ultima cosa è vedere come fare altro approfondimento come fare la divisione con ruffini nel caso in cui il divisore sia del tipo del tipo scriviamo così a x più b cioè che voglio dire che voglio dire che questo non è uno perché noi finora facevamo una divisione con ruffini quando il divisore era del tipo x più o meno b insomma era un monomio un binomio chiedo scusa in cui il coefficiente della x era 1 allora per fare questa divisione con ruffini in questo caso dobbiamo fare una semplice osservazione nel caso in cui io ho la divisione di un polinomio a di x diviso un polinomio del tipo ax più b allora che cosa succederà avrò un certo quoziente q di x e un certo resto r di x il che significa che il nostro polinomio a di x è uguale al polinomio qu di x per a più x più b chiedo scusa più r di x ora se io voglio ricondurmi al metodo classico di ruffini cioè quello in cui il coefficiente di x del divisore era 1 non devo far altro che dividere tutto quanto per a cioè per liberarmi della a che sta vicino alla x divido tutto però per a e quindi che cosa diventa a di x fratto a è uguale a q di x per a x più b fratto a più r di x fratto a ovvero se vado a dividere si ottiene che a di x fratto a è uguale a q di x per x più b su a perché la a la metto sotto i due addendi di ax e b più r di x fratto a e quindi che cosa osservo che se io dovessi dividere dividendo e divisore per la lettera a che è il coefficiente di x il resto non sarà più r di x normale cioè quello che è l'effettivo resto della divisione prima che dividessi per a ma è il resto di prima diviso a il che significa che quando vado a fare l'operazione di divisione e ora andiamo a fare direttamente io per riottenere r di x dovrò moltiplicare per a il resto quindi allora ad esempio supponiamo di dover fare 12 x alla terza meno 54 x alla seconda più 21 x meno 3 e lo vado a dividere per 3 x meno 12 allora ruffini non lo potrei fare secondo ciò che sapevamo fino ad ora perché questo 3 non è 1 e non è 1 non è 1 allora che faccio divido dividendo dividendo e divisore per 3 e quindi che cosa ottengo 12 diviso 3 viene 4 x alla seconda 54 diviso 3 fa 5 diviso 3 e 1 18 giusto 18 x alla seconda più 7 x 21 diviso 3 meno 1 questo lo vado a dividere per dividendo anche per la proprietà variativa anche il divisore per 3 x meno 4 a questo punto ecco che la divisione è possibile con ruffini e quindi mettiamo il 4 questo era un x alla terza 4 meno 18 più 7 meno 1 tiriamo le linee mettiamo nell'angolino il 4 che sarebbe il meno 4 cambiato disegno e procediamo il 4 si abbassa 4 per 4 fa 16 qua la somma fa meno 2 meno 2 per 4 fa meno 8 7 meno 8 fa meno 1 meno 1 per 4 fa meno 4 meno 1 e meno 4 fa meno 5 ora attenzione chi è q di x q di x è il solito 4 x alla seconda perché devo scendere di grado meno 2 x meno 1 e il resto non è esattamente meno 5 è il meno 5 lo faccio in rosso moltiplicato per il valore per cui ho diviso il tutto moltiplicato per 3 e quindi mi dà meno 15 quindi mi raccomando è questa l'unica attenzione cui dobbiamo fare che dobbiamo considerare nel momento in cui facciamo la divisione con Ruffini con un binomio che non ha il coefficiente della x di primo grado del termine di primo grado pari ad 1 spero che sia tutto chiaro buono studio ovviamente guardate il tutto anche dal libro del termine di primo grado 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 di primo